Eccoci ancora qui, naturalmente lo ricordiamo siete in diretta streaming collegati con Malgrado e soprattutto questo è il secondo nostro appuntamento con la festa della Madonna del Monte. Le immagini che abbiamo visto finora sono immagini di ieri relativi alla giornata del sabato della festa della Madonna del Monte erano le immagini della presa del Cilio che è stata commentata da Gaetano Sabatteri che adesso è qui ma è qui proprio realmente accanto a me, c'è stato questo passaggio dalle virtù. È stato un momento in cui la realtà virtuale è quella che si è confusa, avevamo il nostro monitor giù mentre la gente aspettava la processione che guardava quello che era successo ieri ma questa è la bellezza della tecnologia. Ecco, io adesso sento dei tamburi. Sono i tamburi che annunciano l'arrivo della processione della Madonna perché i tamburinai che sono poi dei giovani di Racalmuto, anche alcuni ragazzi sono una grande tradizione di questa festa, una festa piena di ritmo questo ritmo che sentite probabilmente in sottofondo ed è veramente un po' il sangue, la passione, il suono della festa. Quindi i tamburinari annunciano l'arrivo della Madonna, l'arrivo della processione. Senti, ma a questo punto, lo abbiamo detto prima, noi avremo proprio la processione sotto la nostra postazione e poi la processione continuerà fino ad arrivare al santuario della Madonna del Monte e dopo saranno i giochi pirotecnici a questa notte a chiudere la festa della Madonna. Come li hai vissuti, come li stai vivendo questi due giorni? Sicuramente ti sei divertito. Io mi diverto molto sempre per la festa perché è un momento in cui la comunità si ritrova, è un momento in cui ci si incontra con le persone, il paese in piazza, è la festa appunto, è la fiesta della piazza. Allora Daniel, stai staccando sui tamburinari in questo momento? Allora io direi per qualche secondo, ascoltiamo questo suono che sa proprio veramente di festa. Esatto, ascoltiamolo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Dai a tutti. Agnello di Dio. Beati a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Dio, Grazie a tutti. 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 e ascoltiamo e ascoltiamo e ascoltiamo e ascoltiamo e ascoltiamo i nostri tamburi. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. 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 e a tutti. a tutti. tra 30 secondi. a tutti. a tutti. a tutti. My dream. My dream. a tutti. è un tributo. di fedeli. di persone. che stanno facendo. gli omaggi. a tutti. e chiedono. Santini. e fanno gli ex. a tutti. e la giornalista. che è travestito. da nave. sulla quale. sulla quale. e sulla quale c'è la Madonna. c'era. la band. questa stile. mi pare che si può dire. che oggi è una domenica. di festa. come si è un'altra. comitato organizzatore. in questi moment. come? comitato organizzatori. in questa fase. il ribasso. la voglia. e quindi vedo, che la gente parte, antecipa. adesso fa fa, è un piacere. il carro della Madonna. che adesso. dovrebbe guadagnare la chiesa e la chiesa, e la possibilità di ascoltare, una bella giornalista. perché abbiamo, perché abbiamo, e la chiesa, per la業e della chiesa. lungo tutto il corso Garibaldi. È una giornata di luglio che tutto sommato poteva anche essere un po' più clemente, il tempo è bello per carità, però c'è una leggera brezza che non si sa da dove arrivi, che rimpresca forse un po' più del dovuto, almeno in un mese come quello di luglio, l'aria, ma ciò non significa assolutamente nulla perché come abbiamo detto prima, migliaia e migliaia di persone in questo momento stanno seguendo la processione della Madonna, arrivano anche proprio in questo momento i suoni delle bande che seguono la processione che seguiremo ancora per qualche minuto per passare poi il nostro microfono a Gigi Restivo, a Gaetano Savatteri e ai tantissimi ospiti che abbiamo qui sulla terrazza. Quindi seguiamo ancora la processione per qualche minuto, dicevo soprattutto a beneficio di quanti in questo momento ci stanno seguendo da ogni parte del mondo, sicuramente la stragrande maggioranza sono racalmutesi che in qualche modo grazie a queste immagini stanno sentendo in questi momenti un po' più vicino il loro paese e anche un po' più vicina la Madonna alla quale sono particolarmente devoti. Il carro procede lentamente, dicevamo, seguiamo le immagini. Ecco, vedete la banda, una delle due bande che hanno in questi giorni portato sicuramente allegria in questa festa. Questa, questa credo che sia la banda di Racalmuto, però non vorrei sbagliarmi, diretta dal maestro Carrara, vediamo anche tanti giovani in questa banda e vogliamo sentirla adesso questa banda. Eccola. 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 Grazie a tutti. 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 My dream. My dream. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. salita. Grazie a tutti. 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 gli scatti di tutti. Grazie a 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 tutti. per per... Grazie a tutti. a tutti. a tutti. eccoci, perché... cavaliere, cavaliere, è una promessa... un abituare, un abituare, un abituare... il cavallo, un abituare... dentro, dentro... su un cavallo, un abituare... è un'emozione, un abituare, un'emozione... E adesso attenzione, spostatevi, il cavallo è garantito ma non si sa mai, ecco sale spinto dai familiari e dagli amici, è una lunga cavalcata, il cavallo poi entrerà dentro la chiesa per sciogliere il voto. Gli applausi, vedete ecco gli applausi, la gente Daniel e adesso io darei la linea a Gigi Restivo che ci racconta dall'alto la vista di questa mattinata di domenica di promissione. Bene, prendiamo la linea dall'ingresso della chiesa madre, grazie Gaetano, adesso da una diversa prospettiva vedremo la prossima promessa, la prossima promissione. Anche qui, come potete vedere alle immagini, grande partecipazione della gente che ogni anno accorre per questi aspetti particolari della festa della Madonna del Monte. Caratteristica di questa festa è delle promesse che i cavalli entrano sin dentro la chiesa, adesso infatti vedremo una nuova promessa con il cavallo che dopo aver scalato la scalinata della Madonna del Monte entrerà sin dentro la chiesa. Speriamo di riuscire a accogliere tutti i momenti particolari di questa festa. Quest'anno sono parecchie le promesse, infatti proseguiranno anche nel pomeriggio, poiché più tardi, intorno a mezzogiorno, le 12.30, ci sarà una solenne cerimonia religiosa all'interno del santuario della Madonna del Monte. Intanto sentiamo i tamburi alla sommità della scala e adesso piano piano questa folla si aprirà a destra e a sinistra per lasciar passare il prossimo cavaliere. Avremo modo di vederlo con le immagini che sta girando Daniel questa mattina. Grande partecipazione, forse più degli anni passati, anche se sono dei momenti molto particolari, la presa del Cilio il sabato sera e le promesse la domenica mattina per grazia ricevuta o per grazia da ricevere. C'è un attimo di silenzio, probabilmente giù i cavalli si stanno preparando, il cavallo si sta preparando a lanciarsi lungo la scalinata di Maria Santissima del Monte. Fra qualche minuto dovremmo avere la possibilità di vederlo, i tamburi si sono zittiti ed ecco che è partito. E' partito il cavallo, sta salendo lungo la scalinata del monte. Ecco che sta per arrivare, sta per arrivare ed entrerà sin dentro la chiesa. Ecco qua, è un signore abbastanza anziano, non è un giovane, mentre poco fa c'era un giovane e piano piano sta salendo il sagrato della chiesa del monte. Per entrare sin dentro la chiesa, vediamo di seguirlo, seguirlo pure noi, entra dal portone prospicente la scalinata di Maria Santissima del Monte per poi uscire dall'altro portone che dà sul largo monte dove c'è, è prevista anche la benedizione di padre Don Luigi Mattina, ci dovrebbe essere, che benedice il cavallo e il cavaliere che hanno fatto questa promessa. Fotografi che arrivano da tutte le parti per immortalare uno dei momenti più significativi della festa della Madonna del Monte. Come vedete è una festa particolare, il fatto che anche gli animali possano accedere al santuario è certamente qualcosa di molto particolare. Ecco qua Don Luigi Mattina, adesso farà una preghiera di benedizione per il cavaliere che ha fatto questa promessa. Il cavaliere sta scendendo e Don Luigi Mattina leggerà una preghiera. Andiamo dall'altra parte, Daniel seguimi, seguiamo Don Luigi, il rettore del santuario. Il figlio dello spirito, il salto, ammene. Ringraziamo la Madonna per lo scampato pericolo. Signore Gesù, tu che hai sofferto tanto sull'antroce che è nella sofferenza che hai affinato alla tua madre Maria, che è divenuta la nostra madre. Ti preghiamo per l'intercessione della tua madre, di essere recuperati sia oggi che domani da ogni male spirituale maggiore. Ti preghiamo per l'intercessione della tua madre, di essere recuperati sia oggi che domani da ogni male spirituale maggiore. Ti preghiamo per l'intercessione della tua madre, di essere recuperati sia oggi che domani da ogni male spirituale maggiore. Ti preghiamo per l'intercessione della tua madre, di essere recuperati sia oggi che domani da ogni male spirituale maggiore. Santa Maria, di essere recuperati sia oggi che domani da ogni male spirituale maggiore. Ti preghiamo per l'intercessione della tua madre, di essere recuperati sia oggi che domani da ogni male spirituale maggiore. Ecco Don Luigi Mattina benedice il cavaliere, tutti presenti, il cavallo per la grazia ricevuta da questo signore che ha fatto la promessa. Il cavallo adesso lascerà la chiesa dall'altro ingresso per fare posto alla prossima promessa. Momenti di commozione dopo la promissione di questo signore per la grazia ricevuta, diceva padre Don Luigi Mattina, per lo scampato pericolo. Quindi è una persona che si è salvata la vita probabilmente e che rende in questo momento omaggio alla Madonna del Monte, segno di una fede che arriva da lontano. Ormai sono più di cinque secoli che il culto della Madonna del Monte viene esercitato e praticato a Racalmuto. A questo punto direi che per quanto riguarda le promissioni della domenica mattina è tutto, vi lasciamo alle immagini che sta girando Daniel Carlisi e proseguiamo con il nostro viaggio lungo la festa del mondo. Grazie. Aspettiamo il sorgere del sole per iniziare a vedere, vedere dove si poggia, dove riflette, dove colora e aspettare il momento giusto per catturarla e trasformarla in ricordo. Tutti amiamo il luogo in cui siamo nati e siamo portati ad esaltarlo. Maracalmuto è davvero un paese straordinario. Regalpetra Hotel My Dream My Dream Viale della Vittoria Grotte Agrigento My Dream Bene, siamo alla fine di questa lunga diretta streaming dedicata alla festa della Madonna del Monte di Racalmuto. Quasi otto ore di diretta tra la giornata del sabato e la giornata di domenica. Per regalare a quanti ci seguono sul nostro malgrado tutto web.it fede sacro e profano, religiosità, i momenti straordinari di una festa che Sciascia paragonava alla festa di Plamplona in Spagna. Siamo qui con Egidio, con Gaetano, con Felice Cavallaro che in questi due giorni hanno commentato per tutti voi i momenti migliori di questa Kermesse. Felice, era da tempo che non seguivi per tutti e tre i giorni la festa del Monte. Che ricordo ti porti appresso. Vorrei agganciarmi all'ultima riflessione che facevi tu su questo mix di sacro e profano. Incredibilmente oggi, proprio stando dentro la chiesa della Madonna del Monte e vedendo arrivare questi cavalli guidati a volte, mi rimarrà sempre come un ricordo vivido, una ragazza di 30 anni con il suo bambino di un anno, che sale spaventata, si capiva, questa scalinata ed entra nella chiesa e si ferma guardando la Madonna come per dire hai visto, ci sono riuscita. In quel momento quel profano, perché certamente è l'aspetto profano, si univa perfettamente e si miscelava in piena sintonia con il sacro che noi così pensiamo sia la cerimonia religiosa, la preghiera, la riflessione. Anche quella era una prova di devozione infinita, intima, personale, sofferta, pensata. E allora, un po' da laico, ho dovuto rivedere davanti all'immagine di quella madre col bambino di un anno, che evidentemente aveva sofferto qualcosa della quale io non so, però è stato necessario per me rivedere tutto questo processo del mix di sacro e profano che a volte raccontiamo come fosse la miscela di una superstizione da rifiutare. Perché non è affatto vero e allora anche noi laici dobbiamo rivedere questo aspetto e capire quanta importanza abbia l'aspetto popolare della festa nel suo miscelarsi con i profondi sentimenti religiosi che un popolo ha il diritto di avere. E a questo punto forse sarebbe anche corretto rivedere il tema del regolamento urbano, dell'approccio che l'autorità deve avere davanti a queste manifestazioni. Mi rendo conto che ci sono dei problemi di ordine pubblico, per cui i carabinieri o chi deve fare rispettare le regole di una comunità, deve certamente garantire la sicurezza di tutti, evitare che si facciano delle cose che possano compromettere la sicurezza degli abitanti, quindi la stessa scalinata del monte piena di bambini da una parte o dall'altra, mentre i cavalli salgono. Certo, si pone un problema, forse bisognerà mettere qualche transenna in più, non lo so, ma pensare di poter intervenire soltanto con un sì o un no, tranciando il tema, come a volte si è pensato di fare in anni recentissimi, con un distacco dal popolo che si sembrava fosse coinvolto in aspetti soltanto profani. Questo è un atteggiamento che credo sia profondamente ingiusto e non corretto, pensando a quella madre che sale con il suo bambino di un anno spaventata, protetta dal marito che protegge la corsa del cavallo, ma che arriva davanti alla chiesa, anzi, entra dentro la chiesa e il fatto che un cavallo entri dentro la chiesa certamente può essere considerato profano, ma vivendo quella immagine, quella storia, lì di profano vi assicuro, non c'era assolutamente nulla. Grazie Felice, un bel modo per chiudere questa trasmissione con questo ricordo molto toccante, e questa tua riflessione sulle vicende di questa mattina. Prego Egidio. Io intanto volevo sentire Gaetano Sovatteri che come non mai quest'anno credo che abbia veramente intensamente vissuto la festa della Manola del Monte. Sì, perché non solo l'ho vissuta, ma l'ho anche raccontata, l'abbiamo raccontata per Margare tutto, è stata una festa nella festa, è stato bellissimo oggi a un certo punto vedere nei monitor in piazza, mentre noi raccontavamo la festa, vedere che passavano le immagini di ieri, quindi in un gioco virtuale, diciamo così, tra quello che si è appena vissuto che già diventa memoria. Però queste immagini, questo racconto che noi abbiamo fatto, noi l'abbiamo fatto soprattutto per chi non è qua in piazza, perché chi è in piazza e la vive probabilmente non era attaccato a un computer, se ha visto delle immagini era solo per rivedersi, giustamente. Abbiamo fatto questa diretta per tutti quelli che sono lontani da questo paese. E ricordo che molti anni fa si raccontava una storia di Shasha che si trovava a Parigi e chiamando gli amici nei giorni della festa e sapendo che c'era la festa a Racalmuto, Shasha, squarato, disse «Voi siete lì a Racalmuto dove c'è la festa e io sono qua, buttato a Parigi». Questa nostra diretta aiuterà tutti quelli che sono, tra virgolette, lontani, buttati in tanti posti del mondo, dove sono i nostri paesani, in Canada, in Venezuela, in Belgio, in Germania o a Milano, chi sta lavorando fuori, chi è impegnato ad essere un po' più vicini alla festa. Con tutti i nostri inconvenienti tecnici, con tutti i nostri successi tecnici e vorrei ringraziare i nostri tecnici che sono stati eccezionali. Ebbene, abbiamo tentato di raccontare con i nostri mezzi questa festa perché questa festa ci mancate. Ci mancate tutti quelli che non siete qua e quindi mi ha fatto piacere raccontarlo per tutti voi perché anche io sono uno che vive lontano e se forse Shasha avesse avuto il web o la telecamera si sarebbe sentito meno ittato a Parigi, meno solo a Parigi. Bene, e allora noi chiudiamo. Lasciatemi semplicemente ringraziare tutta la redazione di Malgrado Tutto. Io non mi avventuro nei nomi perché temo di dimenticare qualcuno, ma queste due giornate, queste due dirette sono il risultato di un lavoro collettivo che ha visto impegnata tutta la redazione di Malgrado Tutto alla quale naturalmente va veramente il mio grande grazie. Poi un grazie veramente particolare a tutti i nostri tecnici, a Calogero Carlisi, a Daniel Carlisi, a Giuseppe Morriale, a Sandra Licata che qui dalla terrazza ha un po' coordinato tutte le riprese e all'ABS Service che di fatto ci ha messo a disposizione tutto l'apparato tecnico per poter realizzare questa diretta. Prima di ringraziare quanti ci hanno seguito e ripeto sono veramente tanti, vorrei ricordarvi due appuntamenti con Malgrado Tutto TV, con Malgrado Tutto Web. Uno per il 24 luglio alle ore 18.30 per la presentazione del libro di Carmelo Sardo Malerba edito da Mondadori e in quell'occasione Carmelo Sardo converserà proprio con Gaetano Sabatteri. Vi ricordate? 24 luglio, comunque avremo modo di ricordarvelo poi attraverso le colonne del nostro giornale. L'altro appuntamento sempre in diretta streaming è per la presentazione di un altro libro che avverrà il 25 di luglio alle ore 18.30. Presenteremo Piccola Atene di Salvatore Falzone e sarà Gigi Restivo con Stefano Zammuto a conversare con l'autore. Sono due iniziative promosse dal nostro giornale con il patrocinio morale, diciamo, del comune di Racalmuto. Bene, e adesso è giunto il momento di dire grazie a tutti voi. Ringraziamo ovviamente anche la famiglia Borsellino che ci ha aspettato, l'abbiamo detto tante volte, era giusto ricordarlo ancora una volta. Benissimo, lo ricordiamo ancora una volta. Veramente un grazie di cuore a quanti da ogni parte del mondo Gaetano ci hanno servito in questi due giorni. Cosa volete che vi diciamo? Vi auguriamo di tornare quanto prima a Racalmuto perché sappiamo che questo paese e questa festa sono veramente nel vostro cuore ma non soltanto nel cuore dei Racalmutesi anche nel cuore dei Grottesi e di tutti quelli che abitano nei paesi vicini di tutti i siciliani, è proprio il caso di dirlo. Grazie e buonanotte a tutti. A presto, grazie. Aspettiamo il sorgere del sole per iniziare a vedere. Vedere dove si poggia, dove riflette, dove colora e aspettare il momento giusto per catturarla e trasformarla in ricordo. Tutti amiamo il luogo in cui siamo nati e siamo portati ad esaltarlo. Maracalmuto è davvero un paese straordinario. Regalpetra Hotel My Dream My Dream Viale della Vittoria Grotte Agrigento My Dream Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.